Si è chiusa nella giornata di ieri 5 giugno con la consegna degli attestati di partecipazione e con le premiazioni di rito la manifestazione in acqua insieme senza barriere tenutasi nelle acque della piscina comunale di Bitonto ed organizzata in doppia sinergia fra il comune di Bitonto e l'associazione sportiva Sport Project. Una iniziativa importante ma al tempo stesso coinvolgente riservata agli studenti disabili delle scuole superiori della nostra città ed in particolar modo ai ragazzi del Vitale Giordano e del Volta dei Gemmys. Lo spirito della benissima manifestazione è stato quello di portare gli istruttori di nuoto della Sport Project a fornire supporto gratuito ai ragazzi attraverso lezioni di nuoto individuali e di gruppo per far avvicinare gli studenti allo sport che tante soddisfazioni in ambito nazionale ed internazionale hanno dato alla nostra Italia. Grande partecipazione da parte di tutti ma soprattutto tanta soddisfazione in chi ha fortemente voluto questa iniziativa per far sì che le barriere della disabilità siano sempre più sottili o quasi nulle nella vita quotidiana di relazione. Siamo giunti alla conclusione dell'anno scolastro di questa progettualità bellissima che ha coinvolto tutti insieme in un patto educativo forte le famiglie, noi istituzioni, il corpo docente. Questi ragazzi veramente eccezionali hanno potuto appunto girovagare per la città realizzando tanti di quei progetti tra cui quello appunto in piscina dove l'acqua stessa è un momento aggregante di inclusione dove hanno anche imparato a stare insieme nello spogliatoio insomma e quindi dinamiche che appartengono alla vita reale. Questo progetto si inserisce benissimo nella programmazione dell'assessorato ai servizi sociali, stiamo programmando un cartellone unico di centri estivi per bambini e ragazzi quindi supereremo anche la storia dei 17 anni anche progetti con rapporto uno a uno completamente a zero barriere dove potranno essere inclusi tutti. Questa attività estiva sarà proseguita anche a settembre con la creazione della rete territoriale per l'autismo con la quale sosterremo una serie di progettualità inclusive pomeridiane e anche che andranno a toccare il lavoro dell'assistenza specialistica per potenziare ancora di più tutte le attività di inclusione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze della città di Bitonto. Questo progetto è giunto al termine grazie anche al contributo da parte del Comune che ha sostenuto le rete dell'ultimo periodo che si è aggiunto a quello che era il trasporto che prevedeva l'accompagnamento dei ragazzi in struttura. Sostanzialmente ci sarà anche un nuovo progetto per quanto riguarda l'estate che vedrà coinvolti i ragazzi con disabilità con un progetto sempre in sinergia con l'assessorato e i servizi sociali. Rivolgiamo l'invito a tutti i ragazzi che saranno coinvolti di poter partecipare a questi progetti molto interessanti.